Di Franz Kafka, I passanti, voce di Lorenzo Pieri Quando si passeggia di notte per una strada, e un uomo che si può scorgere già da lontano perché la strada dinanzi a noi è insalita e c'è la luna piena, ci viene incontro correndo. Noi non lo acchiapperemo, anche se è debole e cencioso, anche se un altro lo insegue gridando, ma lo lasceremo proseguire nella sua corsa, poiché è notte e non è colpa nostra se la strada è insalita e c'è la luna piena. Può darsi poi che i due si rincorrano per divertirsi, forse entrambi inseguono un terzo, forse il primo viene inseguito pur essendo innocente, forse il secondo ha intenzioni omicide e noi diverremmo complici di un assassino, forse i due si ignorano a vicenda e ciascuno di essi corre per conto proprio verso il suo letto, forse sono dei nottambuli, forse il primo è armato, e infine non ci ha concesso di essere stanchi, non abbiamo bevuto tanto vino, siamo contenti di non scorgere più neppure il secondo.